un caro saluto un caro saluto a tutti da diego fusaro benvenuti anche oggi nella nostra diretta quotidiana un caro saluto a tutti coloro i quali si stanno collegando come sapete ogni giorno facciamo una diretta quotidiana con la quale proviamo a riflettere su tutto ciò che accade da un punto di vista stricto senso filosofico e dunque critico secondo quella che chiamiamo l'ontologia dell'attualità vale a dire il tentativo di pensare altrimenti il nostro concitato presente grazie dunque a tutti quelli che si stanno collegando un caro saluto agli amici alle amiche ai nemici e alle nemiche benvenuti in questa diretta alle mie spalle vedete anche un pericolosissimo condizionatore simbolo della nuova guerra freddo della nuova guerra al freddo scegliete voi come preferite definirla condizionatore o la pace era il grido di battaglia lanciato dall'euroinomane mario draghi l'uomo di bruxelles l'atlantista che forse lascerà il governo per passare direttamente alle superiori sfere della nato ad ogni modo alle mie spalle esibisco fieramente un condizionatore perché noi vogliamo sia la pace sia il condizionatore in barba alla all'out out posto in essere dall'euroinomane di bruxelles mario draghi ecco se ritenete utile ciò che facciamo vi ricordo che potete supportare il nostro pugnace gruppo di lavoro che ogni giorno si adopera con zelo per presentare una narrazione controcorrente potete supportarci acquistando i badge di sostegno nella diretta instagram abbonandovi alla pagina facebook qui in basso dove c'è il cuoricino verde cliccate vi abbonate così supportate il nostro gruppo di lavoro e oltretutto chi si abbona entra anche nel nostro gruppo di discussione riservato su facebook nel quale ci confrontiamo quotidianamente ancora potete supportarci con libere donazioni e liberi abbonamenti da con paypal e con bonifico da www.filosofico.net slash sostenetici www.filosofico.net slash sostenetici grazie di cuore a tutti perché in tanti state supportando il nostro gruppo generosamente il nostro gruppo si sostiene come gruppo grazie al vostro supporto chissà magari questo condizionatore in autunno o in estate vedremo si potrà accendere con aria fredda o calda solo per chi avrà fatto la quarta dose magari si creeranno delle combinazioni surreali anche un po demenziali chi lo sa interne al nuovo ordine mentale di completamento del nuovo ordine mondiale del grande reset chi lo sa è un'ipotesi vedremo intanto la notizia che da anche il tizio a questa nostra diretta quotidiana riguarda il fatto che stando a un sondaggio di cui hanno dato notizie agli stessi autoreferenziali padroni dell'informazione monopolisti del discorso ministri della propaganda chiamateli come preferite voi sofisti postmoderni io li amo amo definirli alla maniera platonica sofisti postmoderni bene il sondaggio di cui ci danno notizie è quello in coerenza con il quale un italiano su quattro non crede più alla narrazione rispetto alla guerra in ucraina in particolare rispetto alle notizie che vengono diffuse urbi e torbi quotidianamente a ciclo costante contro la russia questo viene detto da parte dei nostri stessi ministri della propaganda uno su quattro chissà forse anche più di uno su quattro la cosa sconvolgente badate non è che ormai gli italiani in parte non credano più ai ministri della propaganda e ai professionisti della disinformazione la cosa sconvolgente che ancora molti di loro credano alla narrazione egemonica ossia la manipolazione di massa del resto come più volte ho detto ed è anche uno dei temi che ho sviluppato nel mio libro globalizzazione la lotta di classe al tempo del populismo il ceto intellettuale complessivamente considerato svolge una funzione essenzialmente che è questa è quella di far sì che i dominati anziché insorgere accettino i rapporti di forza dominanti e quindi le proprie catene di più ancora una volta ci soccorre il paradigma della caverna di platone gli intellettuali i giornalisti oggi i nuovi sofisti post moderni quello che il mio maestro costanzo preve chiamava il clero intellettuale il clero intellettuale fa sì non solo che i dominati amino la prigionia dell'antro caliginoso e umbratile ma di più si battano unicamente contro chi volesse trarli fuori dalla caverna questo è il capolavoro del potere fare sì che gli schiavi amino la schiavitù e si battano unicamente contro eventuali liberatori si veda repubblica di platone non quella di scalfari per l'amor del cielo repubblica di platone libro settimo l'immagine della caverna quindi pare che gli italiani inizino chissà forse si passa dal grande reset al grande risveglio punto di domanda potrebbe essere una possibile pista ermeneutica ci si sta risvegliando si sta uscendo forse dal lockdown cognitivo si sta iniziando a pensare con la propria testa e magari anche ad affidarsi a quella che viene impropriamente detta contro informazione in realtà non c'è la contro informazione c'è la propaganda di massa quella mainstream e poi c'è l'informazione corretta onesta che viene definita sprezzantemente contro informazione che in realtà è l'unica informazione onesta quindi il contrasto non è tra informazione contro informazione usare queste categorie significa già avallare il quadro interpretativo il quadro categoriale dominante la vera contrapposizione è semmai tra la propaganda egemonica e l'informazione vera minoritaria messa a margine difficile da trovare ecco questo è il vero conflitto se vogliamo pensare con la nostra testa e del resto pensare significa sempre pensare con la propria testa oggi si fa un gran parlare del pensare criticamente ma ogni pensare se è tale è un pensare criticamente è pleonastica la formula pensare criticamente se si pensa si pensa criticamente se non si pensa criticamente in realtà non si sta pensando e infatti larga parte di quello che oggi viene definito proditoriamente come pensiero in realtà è semplice automatismo in riflesso della neolingua padronale quella che già pasolini negli anni 60 aveva capito essere la nuova lingua dei padroni che non è più la lingua del padrone ma è la lingua tecnocratica la lingua delle cose tecnicizzate l'aveva capito benissimo pasolini in alcuni passaggi racchiusi nel suo splendido lavoro sull'empirismo critico ecco dove l'empirismo eretico dove appunto essenzialmente mostrava proprio come il linguaggio venisse subendo una metamorfosi sconvolgente in italia diventando unificato sotto il segno della tecnica e quindi per la prima volta si produceva diceva pasolini un'egemonia tecnica le classi padronali non erano più in grado di utilizzare altra lingua se non quella tecnica che è quello che sta avvenendo oggi nel tempo della spending review del fiscal compact del booster e così via tra l'altro piccola notazione dato che oggi più che mai diventa difficile pensare altrimenti e chi provasse a farlo verrebbe eo ipso delegittimato diffamato ostracizzato e demonizzato mi ha colpito molto la vicenda curiosa dell'ampi avete seguito credo ora lampi che in questi anni devo dire la verità non si era distinto più di tanto per spirito critico a essere onesti ad ogni modo adesso lampi da qualche settimana ha assunto delle posizioni critiche che io sottoscrivo in pieno e che mi portano anzi a difendere pienamente l'operato dell'ampi in questa fase lampi l'associazione nazionale partigiani italiani lampi in queste settimane cosa ha detto ha detto tre cose che io sottoscrivo in pieno primo la guerra in russia la guerra d'ucraina non è stata causata primariamente dalla russia ma anzitutto dall'espansionismo imperialistico della nato fin dagli anni 90 secondo bisogna smetterla di inviare armi in ucraina e difenderle ragioni della pace come anche la nostra costituzione prevede terzo è ora di smantellare la nato che è solo uno strumento imperialistico sono d'accordo su tutto sono pienamente in sintonia con lampi peraltro lampi che è antifascista come sapete dove c'è il battaglione azov dei nazisti in ucraina si oppone giustamente lampi è contro il battaglione azov dei nazisti e quando l'antifascismo diventa come oggi con lampi contro il potere non va più bene il padronato usa l'antifascismo delle brigate fucsia come semplice alibi per non combattere il capitalismo l'abbiamo visto in questi anni si dicevano antifascisti quando il fascismo non c'era più e poi però c'era il rapporto di forza padronale il manganello dei mercati invisibile la spending review e su quello non avevano nulla da dire ma allora aveva ragione max orkheimer quando diceva che chi non è anticapitalista non ha alcun titolo per definirsi antifascista il vero antifascismo oggi è l'anticapitalismo l'antifascismo se no aveva senso quando c'erano gramsci e gobetti cioè quando c'era il fascismo realmente dato ma oggi l'antifascismo senza l'anticapitalismo diventa un semplice alibi del capitale per giustificare se stesso infatti il capitale fino a ieri ha utilizzato l'antifascismo delle brigate fucsia dell'arcobaleno per giustificare se stesso diffamando come fascista chiunque non fosse organico all'ordine dei mercati e provasse anche a contestarli richiamandosi all'esperienza della sovranità nazionale dello stato come base democratica adesso scopriamo che l'antifascismo non gli va più bene ai padroni quando l'antifascismo come sta giustamente facendo prende di mira l'imperialismo nato i nazisti del battaglione asov la giusta sacrosanta opposizione all'invio di armi in ucraina allora quando questo è antifascismo non va più bene allora lampi è sotto accusa è sotto una feroce spietata e a mio giudizio manicomiale opera di pressione mediatica e io mi schiero totalmente dalla parte dell'ampi in questo caso questa volta siamo con lampi in tutto e per tutto curiosamente si è detto mi pare a torino proprio la città di cui io sono originario a torino pare che per il 25 aprile alcuni vogliano sfilare con le bandiere della nato e degli stati uniti ecco siamo alla follia siamo alla follia questo è una follia allo stato puro la nato e gli stati uniti non c'entrano nulla con questi temi ovviamente anzi la nato è un organo di imperialismo come più volte l'abbiamo detto ad ogni modo questo è lo scenario la nato che tra l'altro ragioniamo su questo fatto perché non deve sfuggire questo mi pare un aspetto importantissimo se come ci dicono la russia son 30 anni che chiede che chiede una limitazione dell'espansionismo nato la russia dice l'unione sovietica è venuta meno non occupate troppo gli spazi che erano dell'unione sovietica con la nato perché se no ci mettete all'angolo e ci costringete a intervenire questo diceva la russia se voi guardate le cartine dagli anni 90 ad oggi vedrete che la russia o meglio l'ex unione sovietica si è contratta e gli spazi nato si sono sempre più avvicinati fagocitando quelle che erano regioni del pot del patto di varsavia o direttamente del del dell'unione sovietica quindi non è la russia che si espansa imperialisticamente come dice l'ordine del discorso dominante anzi è stata la nato che semmai si espansa la russia cosa ha detto fermate questo imperialismo di espansione perché se no ci costringerete a intervenire perché l'obiettivo di washington credo ormai chiaro anche ai bambini anche ai lattanti l'obiettivo di washington qual è circondare la russia con basi nato e poi fare scacco matto al cremmilino e sostituire vladimir putin che non si piega alla civiltà del dollaro e al suo imperialismo alla civiltà del nulla rappresentata dall'imperialismo nato sostituirlo con un navalni con un guitto navalni qualsiasi con un nuovo yeltsin con un nuovo come dire con un nuovo avatar di washington un proconsole washingtoniano ecco da 30 anni lo chiede la russia inascoltata tant'è che adesso l'ultimo passaggio era portare l'ucraina sotto la nato cioè di fatto a cerchiare la russia questa è la causa vera di questa guerra che noi condanniamo sia chiaro noi siamo contro la guerra ma essere contro la guerra significa non solo essere contro chi tira l'ultimo pugno vladimir putin ma contro tutto il processo e soprattutto contro chi ha tirato il primo pugno la nato con il suo espansionismo deve essere chiaro ecco la russia chiede questo e ci dicono che l'occidente sta provando a seguire la via della pace e poi la svezia e la finlandia ora decidono di entrare nella nato anche la svizzera leggevo oggi sulla repubblica rotocalco turbo mondialista voce del padronato atlantista come diceva costanzo preve repubblica il giornale per semicolti subalterni ecco ci dice che anche la svizzera che tradizionalmente era neutrale e ora non lo è più come sapete vuole entrare a carezza l'idea di entrare nella nato voi capite che siamo alla follia perché se l'espansione della nato è la causa primaria di questa guerra con l'ucraina proporre l'espansione ulteriore della nato significa soffiare sul fuoco significa portare benzina dove c'è l'incendio anziché secchi d'acqua questo sta facendo l'europa altro che per orare le ragioni della pace per orare le ragioni della pace vorrebbe dire riconoscere uno spazio di neutralità magari l'ucraina neutra né unione europea né russia né nato un'area neutra che faccia un po da cuscinetto tra oriente e occidente questo sarebbe per orare le ragioni della pace fare in modo che la russia non venga cerchiata e non sia costretta a intervenire questo significa per orare le ragioni della pace riconoscere la pluralità il pluriversum cioè il mondo poliarchico un mondo in cui non ci siano solo washington e le sue colonie ma ci siano anche la russia la cina l'iran e così via questo è il punto su cui voglio richiamare la vostra attenzione chi lo dice non ha alcun interesse a difendere la cina la russia o l'iran dico semplicemente che mi oppongo a quell'imperialismo made in usa che vuole di fatto ridurre il mondo intero a colonia di washington come disse bill clinton 1997 l'america è l'unica nazione indispensabile voi capite che se ti consideri l'unica nazione indispensabile tutte le altre debbono genuflettersi modalità unione europea o debbono essere abbattute come la libia la serbia e vorrebbero anche la russia evidentemente la russia di putin colpevole di non piegarsi alla civiltà del dollaro ecco sotto questo riguardo la situazione mi pare essere chiaramente questa vedete la nato continua a espandersi e come si fa a pensare però vedete ormai molti italiani non si bevono più queste narrazioni e gli italiani non se le bevono più stanno diventando apoti come diceva prezzolini anche se abbiamo un ministro che era esperto di bibite stanno diventando apoti gli italiani non se le bevono più anche se ci sono cotanti e cotali esperti di bibite non se le bevono più fino in fondo ecco questo è l'aspetto interessante quindi abbiamo bisogno di una russia di una cina di un iran forti che garantiscano un pluriverso e che evitino che il mondo intero diventi sottomesso agli stati uniti la globalizzazione è un'americanizzazione del mondo è una anglobalizzazione come più volte anche l'ho definita se volete condividete questa diretta in modo che circoli un po se ritenete variamente utili e contro e contro il pensiero dominante queste parole io dico sempre nel tempo delle sardine che si muovono a banchi seguendo le correnti del pensiero unico politicamente corretto occorre essere salmoni che vadano contro corrente per deporre le uove quindi lasciare generare la vita e lasciare qualcosa in eredità ai venturi ecco quindi se ritenete utile diffondete cliccando su condividi per questa diretta ecco sotto questo riguardo voglio ancora dire una cosa che mi pare importante per fortuna sempre più italiani si stanno risvegliando e dal grande reset passano al grande al grande risveglio non condividano più questa manipolazione organizzata millimetricamente che dispone organizza le coscienze non c'è più bisogno di controllare i corpi quando si controllano le coscienze anche se controlleranno anche ancora a lungo i nostri corpi perché l'infame tessera verde come sapete non se ne andrà del tutto magari per l'estate dormirà un po nel cassetto e poi ritornerà in autunno perché è un metodo di governo preciso l'infame tessera verde non è un mezzo ma è un fine deve essere chiaro l'infame tessera verde è un fine non un mezzo e quindi non serve a contenere i contagi infatti non li contiene serve a usare la retorica del contenere i contagi per imporre un metodo di controllo e di libertà autorizzata mediante la spunta verde la libertà e del potere che ve la concede se di volta in volta con spunta verde fate quello che vi viene chiesto adesso se vi fate benedire col santissimo siero sempre laudando in secula seculorum sacramento della religione terapeutica domani se consumerete le giuste quantità di energia o se vi atterrete ai razionamenti che faranno per la guerra forse chi lo sa questo è un dispositivo di controllo che rimarrà a proposito avete sentito che anche l'euroinomane mario draghi si è contagiato per fortuna sta bene è asintomatico gli auguriamo ogni bene sul piano della salute si intende resta un nemico politicamente ma sul piano umano non abbiamo che da augurargli pronta guarigione anzi ma sta bene asintomatico quindi non deve neanche guarire ad ogni modo gli auguriamo ogni bene sul piano della salute e lo critichiamo spietatamente sul piano politico ecco sotto questo riguardo caro mario draghi augurandoti un'ottima ripresa e di star sempre bene evidentemente era una fake news quella che dicesti nel luglio 2021 allorché sostenesti che l'infame tessera verde alias green pass la neolingua dei mercati anglofoni il green pass la lingua smart ecco diceva mario draghi che il green pass proteggeva dai contagi creava ambienti sicuri dove c'erano i non contagiati ecco era una fake news già nel 2021 lo dicevamo lo diceva giorgio agamben lo diceva anche il sottoscritto l'infame tessera verde non ha ragioni medico scientifiche ha bensì ragioni di controllo politico totale e totalitario e quindi lo dicevamo già nel 2021 luglio ne abbiamo ora la prova anche mario draghi l'euroinomane di bruxelles che diceva che l'infame tessera verde ci avrebbe protetto dai contagi si è contagiato e quindi ha lui stesso falsificato la sua teoria ci ho detto gli auguriamo ogni bene sul piano della salute ma lo riteniamo sul piano politico un nemico un nemico di classe da che rappresenta deve essere chiaro non l'interesse dei ceti nazionali popolari e dei lavoratori rappresenta l'interesse delle oligarchie finanziarie della plutocrazia neoliberale cioè l'interesse dei gruppi dominanti e della finanza lo dico perché un signore un certo vincitore mi pare si chiami su youtube mi hanno segnalato un video in cui mi critica per aver criticato mario draghi non sia mai l'esa maestà come osi criticare mario draghi senza argomentarlo su twitter ma caro signore su twitter dove ai 120 caratteri viene un po difficile fare un saggio critico di riflessione ad ogni modo se lei avesse ascoltato o letto le mie cose saprebbe che mario draghi lo critichiamo da parecchio tempo in maniera articolata e con argomenti che non sono ad persona non ci importa nulla della persona di mario draghi potremmo dirti lui quello che diceva catullo di cesare non mi importa che tu sia bianco o nero ma politicamente lo critichiamo per ragioni fondate che anche nel nostro libro golpe globale abbiamo sviluppato magari consigliamo a questo signor vincitore di uno youtuber uno youtuber vincitore con un nome altisonante chissà se un nome veritiero poi ad ogni modo gli consigliamo di leggere golpe globale visto che ci accusa di criticare draghi non sia mai senza argomenti ecco in golpe globale c'è un capitolo proprio di critica argomentata a mario draghi fase suprema del grande reset quindi rimandiamo a golpe globale lo può trovare anche in biblioteca se non vuole acquistarlo se no lo trova anche in libreria ad ogni modo golpe globale capitalismo terapeutico il grande reset quindi legga quelle poi potremo discutere della mia posizione su draghi perché se lei dice che io critico draghi senza argomenti sta mentendo perché o non conosce quello che dico o fa finta di non conoscerlo in ogni caso è nel falso caro amico quindi mi permetto socraticamente di esortarla alla riflessione e anche a leggere prima di parlare perché si può criticare un autore morto sapendo che non risponderà ma se si critica un autore vivo e io grazie al cielo per ora lo sono bisogna aspettarsi che poi ci risponda dicendo ma non puoi criticarmi attribuendomi cose cose false o cose che non ho detto o cose o criticarmi senza aver letto ciò che scrivo perché se no si chiama un modo scorretto di procedere punto su questo argomento e saluto il signor vincitore augurando anche a lui ogni bene grazie intanto a tutti per chi fosse interessato vi segnalo che parte a metà maggio online in sei lezioni un corso che si intitola grande reset il tempo delle emergenze tenuto dal sottoscritto diego fusaro in sei lezioni online con piattaforma online sono aperte le iscrizioni per iscriversi basta andare su www.filosofico.net ripeto www.filosofico.net sulla pagina principale trovate la locandina i modi per iscriversi le lezioni sei lezioni una sul concetto di emergenza e di politica una sul grande reset una sul covid 19 una sulla guerra d'ucraina il nuovo ordine mondiale una sulle emergenze che verranno e una su come reagire alle emergenze trovate tutto su www.filosofico.net il grande reset il tempo dell'emergenza corso tenuto da diego fusaro in sei lezioni a partire da metà maggio le iscrizioni sono aperte www.filosofico.net ogni lezione avrà una parte con lezione frontale da me tenuto e una parte di dialogo con chi si è iscritto al corso che ripeto parte a metà maggio e le iscrizioni sono già aperte ora abbiamo ancora un po di posti disponibili se volete iscrivervi andate su www.filosofico.net è aperto a tutti sia chi è laureato sia chi non lo è sia chi è giovane sia chi è anziano come diceva epicuro non c'è un tempo preciso per far filosofia ogni fase della vita va bene vi ricordo anche i prossimi appuntamenti nei quali potremo incontrarci in presenza oltre che con le nostre dirette quotidiane qui sulle reti sociali domani 20 aprile siamo a milano per una cena filosofico letteraria ci sono ancora qualche posto disponibile c'è ancora se volete andate su www.filosofico.net trovate l'email per scrivermi oppure scrivetemi direttamente a fusaro chiocciola filosofico.net poi ci vediamo il 26 aprile a salzano provincia di venezia 27 aprile pavia 28 aprile napoli 29 aprile parma 30 aprile venafro provincia di isernia poi primo maggio in provincia di pistoia 3 maggio ci troviamo in provincia di como 12 maggio in provincia di varese e poi tante altre date che forniremo intanto seguite se facete se fate scorrere se fate scorrere le nostre stories su instagram o su facebook trovate intanto le locandine con gli appuntamenti oppure andate anche sul canale telegram nel quale siamo operativi grazie intanto a tutti se anche voi volete organizzare un evento con il sottoscritto basta che andiate su www.filosofico.net e trovate tutti i dettagli www.filosofico.net potete invitarmi a presentare un libro a fare una conferenza pubblica una cena privata anche l'infame tessera verde che noi non amiamo per niente anzi la contestiamo da tempo vi ricordo anche che se ritenete utile ciò che facciamo con queste dirette col nostro tentativo di pensare altrimenti potete supportare il nostro gruppo di lavoro il cui motto è liberi di sapere di far sapere o prendendo i badge su instagram o abbonandovi alla pagina facebook proprio qua dove c'è il cuoricino verde cliccate qua vi abbonate e così con 5 euro al mese supportate il nostro gruppo di lavoro e anzi entrate anche nel nostro gruppo riservato di discussione o ancora potete supportarci da www.filosofico.net slash sosteneteci www.filosofico.net slash sosteneteci grazie di cuore a tutti vi auguro una splendida serata rivolgo a tutti quanti in tutta italia in tutto il mondo in tutto l'universo un caro saluto vespertino vi auguro ogni bene e ci vediamo con chi vorrà domani sera a milano per la nostra cena letteraria aperta a tutti su prenotazione e sarà molto bello vedersi di persona dopo essersi visti magari qua in rete è sempre il rapporto reale sempre meglio di quello solo digitale un caro saluto a tutti da diego fusano